Quello che mi ha attratto in questo progetto sono tre cose. Innanzitutto il fatto che era un progetto per l'Odi. Io dall'Odigiana, che non vivo più qui da tantissimi anni, avevo veramente voglia di ritornare, di fare qualcosa per la mia città. La seconda cosa è che era un gruppo di amici con un'idea fantastica che dava la possibilità a me di mettere sul tavolo tutte le cose che ho imparato in giro per il mondo e insomma rimetterle un po' a sistema per la città e per questi miei amici. E la terza cosa, molto molto personale, essere qualcuno che va e se ne va dalla propria città e così non riesce ad esprimersi nel mondo come vorrebbe, perché non sei mai, sei sempre un estraneo nel mondo. Ci tenevo veramente tantissimo a fare qualcosa qui dove mi sento a casa e ridare un po' alla mia città quello che mi ha dato prima che io me ne partissi.